ciao ragazzi oggi presentiamo una testa che sicuramente per il periodo e quindi sia per le trote che magari anche per il mare per pescare le seppie sicuramente una fra le teste più giuste la particolarità di questa testa è sia tutta la gommatura spessa quindi per questa pesca eccezionale e poi noi la possiamo riporre perché è una testa come vedete bene completamente ripiegabile quindi noi pieghiamo la testa e la possiamo mettere comodamente finita la pescata nella nostra borsetta grazie a presto